la radio è uno dei mezzi di comunicazione di massa più diffusi oggi questo dipende dalla sua enorme capacità e il suo enorme potere di raggiungere chiunque dovunque e di farli pensare di far pensare e riflettere e mettere in attività la gente la nostra radio è nata nel pieno della pandemia abbiamo accolto la proposta formativa di voicebook radio la radio del luceo kennedy di roma loro ci hanno formato e ci hanno insegnato come fare radio l'anno successivo ci siamo gemellati con due scuole di cagliari e delle altre scuole in tutta europa siamo cresciuti abbiamo formato nuovi tecnici nuovi speaker nuovi redattori e abbiamo iniziato a produrre noi a fare le nostre cose a fare i nostri programmi i nostri podcast le nostre dirette e abbiamo avuto un nostro sito abbiamo comprato nuova strumentazione nuove tecnologie grazie al piano triennale delle arti per noi la radio è un modo di comunicare ci educa ad avere un aspetto creativo e un utilizzo delle tecnologie più consapevole ci sviluppa delle competenze di cittadinanza attiva migliora le nostre conoscenze e competenze di storytelling ci aiuta a collaborare ci aiuta a fare teamwork ci aiuta a lavorare insieme e a produrre e a creare e a inventare insieme crea dei luoghi d'incontro durante questi anni si sono formate nuove relazioni tra di noi studenti dell'ussana ma anche tra altre persone tra persone esterne che ci hanno aiutato e ci hanno accompagnato in questa formazione e in questa bellissima avventura della radio ormai siamo giunti al nostro terzo anno di produzione e di radio stiamo crescendo eravamo una ventina di studenti quest'anno siamo arrivati ad essere quasi 70 quindi stay tuned and listen to us